Ragazzi belli, benvenuti in questo nuovo video da Johnup GMR. Oggi in questo video, aggiornamento filtri, vi dico quali carte andare a prendere. Ovviamente appena vedete il video, andate subito ad investire. Ma prima di farvi vedere su cosa andare, invito ad entrare in gruppo Telegram, un gruppo dedicato alla compraventa, moduli tattiche, consigliatori, consigliatori, squadre, tutto quello che volete. Instagram, vi aspetto in live sulla piattaforma Viola, dove domani alle ore 18.30 parleremo anche dei ruoti due final e dei potenziali investimenti, anche perché adesso andarli a consigliare è un po' prematuro perché i prezzi si devono evolvere, dobbiamo vedere a che prezzi arrivano e quindi me le devo studiare un attimino. Adesso ovviamente sono tutte in hype perché le vogliono provare e quindi tutti magari le vanno a comprare, poi le rivendono, quindi dobbiamo vedere domani come saranno i prezzi per andarli a prendere, anche perché essendo carte dinamiche si possono fare tanti crediti in base a quello che poi le rispettive squadre faranno in Champions, Europa League, Conference e via. Se vi fa piacere lasciate un'iscrizione al canale e lasciate anche un bel like. Questa intanto è la squadra che debutterà nella VL di domani. Cosa ne pensate? Una squadra esotica gasante. Allora andiamo a vedere prima come siamo messi con le categorie. Io quello che vi voglio consigliare maggiormente sono le 84-85, oltre a chi ha bassi bassi budget continuo a consigliare le 81-82, soprattutto le 82. Per me chi ha 20-30 mila crediti sulle 82 può andare anche full. Ok? Quindi prendere tutte queste qua, Tilemans, De Vrij, Asegawa, Shoug, Engen, Xhaka, Cook, David Garcia. Queste massimo fino a 4-4,50, released quasi al doppio, 750-800-8,50, si vendono. 81 stessa cosa, la Lehmann, Underwired, Herseg, Ladd, Schmeichel, William Carvalho, Rachmani. Questa a 400 si realista intorno ai 750-800. Bassi budget, però comunque può essere un metodo di compravento da abbinare ovviamente alle categorie e quant'altro. 84-85, adesso vi faccio vedere i filtri. Io non mi sento di consigliarvi 86-87-88 perché per me sono alti attualmente. Vediamo come si evolvono successivamente. E poi oltre a questo, prima di farvi vedere i filtri, vi vado a consigliare soprattutto le IF-85. Quindi prenderei solo alcuni nomi, Fulkrug, De Ketteler, Loftuchik. Io prenderei 3-4 di questi, ma direi già questi 3, Fulkrug, De Ketteler e Loftuchik, massimo a 18.500-18.750, released intorno ai 25-26. Quindi fare quei 4-5k a carta. Vogliamo prendere qualche IF-84, Alex Berenguer può essere uno di quelli, sempre sotto i 20k, released 25-26, 83 sinceramente le eviterei. Ho un milione di crediti, quante IF prendo? Posso prendere anche un 300k di IF e il resto vado sotto su 84-85 oppure conservo i crediti per andare poi ad investire con i Road to the Final che ne parleremo domani in live alle 18.30. Andiamo a vedere l'aggiornamento dei filtri per quanto riguarda 84-85. Filtro 84 facciamo 1100 o mettiamo 1200 o 1300, è uguale, 5100. Quindi 1100 o 1200 magari adesso può andare bene appena guardate il video, poi magari più tardi dovete mettere o 1300 o 1400, che prezzi vanno in hype. Queste qui ragazzi fino a 1300 crediti potete andare anche full, dare listare almeno a 2000 crediti, se non volete aspettare tanto, altrimenti anche a 25-26. Filtro 85 fate 2100, 5000, 8000 per quanto riguarda il filtro 85, andate alla ricerca e vi andate a prendere tutte le 85. Vedete che adesso non ne escono tante, ok? Quindi dovete alzare un pochettino quel parametro. Fino adesso ne è uscito uno, vediamo se ne esce un altro. No, anche perché i prezzi cambiano continuamente. No, forse un altro è uscito, eccolo qua, tripper a 5100. Se vedete che non ne escono tante, alzate un pochettino qua di 100 crediti. Ok, fino a 5700, 5800 possono andare bene. Trovate ancora poche, alzate fino a 5700 e già ne escono. Quindi 5400, ne è uscito un altro. E così via dicendo. Io direi di caricare più 84 che 85, quindi avete 500k, fate 300k di 84, 200k di 85. Oppure fate 300k di 84, 100k di if e i restanti con le 85. Quindi filtro 84, 1100, 1200k, 5100k, se non li trovate a 1200k, fate 1100k, fate 1100k, 1300k, 5100k, se non li trovate a 1200k e li andate a prendere massimo fino a 1300k, ma pure 1400k non è un problema. Filtro 85, fate 2100k, io direi di fare 5600k, 8000k e vi andate a prendere tutte le 85k che vi escono. Non ne usciranno tanti a questi prezzi, però io a questi prezzi li consiglio non più alti. Non vorrei arrivare intorno ai 6000 crediti, altrimenti alzate qua fino a 5800k per me va bene. Oltre andiamo poi a sforare il prezzo secondo il mio punto di vista. Quindi a quanto le rilistiamo? Le 84 partendo dai 2000 crediti, le 85 almeno 1000 crediti in più. Quindi le prendiamo a 5600k e le mettiamo a 6600k, che le prendiamo a 5700k e le mettiamo a 6600k. Oltre a questo vi consiglio quelle if che vi ho detto, Fulcug, The Kettler, Love2Chick, if 85, massimo a 19000 crediti, rilist 2526k. Anche lì possono variare i prezzi. Quindi fate attenzione, appena guardate il video andate subito ad investire. Infine, guardando, dando un primo sguardo ai World2Final, vediamo che comunque i prezzi sono tutti alti. Jesus 2 milioni, Simon 680, Lukaku 9,95, perché ovviamente adesso li vogliono provare, quindi li compro e tutti quanti. Vediamo come si evolvono domani, questi qua li valuteremo domani. Anche in base a contro chi giocano, tipo Zampo Angissà, sapendo che il Napoli gioca col Barca, questo qui sicuramente non avrà un prezzo altissimo. Comunque il Barca è una squadra forte, il Napoli non è che sta attraversando un buon momento. Quindi sono tutte da valutare e questo lo faremo in live domani alle ore 18.30. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per la visione di questo video. Ragazzi, se vi fa piacere lasciate un'iscrizione al canale, lasciate un like, entrate nel gruppo Telegram, gruppo dedicato alla compravinti da moduli tatti con gli giocatori, con gli squadra. Faremo investimenti anche in live, visitare il punto esclamativo 84, poi aggiornerò anche col punto esclamativo 85 in live, dove potete mettere il comando così già avrete i filtri. E poi guardiamo soprattutto le ruote to the final. Vi aspetto su Instagram, sulla piattaforma Violi, sono tutti i link in descrizione. Come on ragazzi! Grazie a tutti!